Barbell curls. Gambe divaricate come l'ampiezza delle spalle, e leggermente flesse, in modo da non caricare il peso sulla schiena. Braccia distese lungo i fianchi. Busto perfettamente diritto. Flettete gli avambracci avvicinandoli al busto. Durante l'esecuzione, i gomiti devono rimanere nella loro posizione originale. Ricordatevi di non curvare assolutamente il busto all'indietro. Ritornate alla posizione di partenza. Ritornate alla posizione di partenza.